Gentili telespettatori, buona giornata. È stato firmato il decreto, possiamo chiamarlo il decreto riscaldamento. Vediamo tutte le nuove regole, calendario e temperature. Il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha firmato il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati da applicare per la prossima stagione invernale, come previsto dal piano di riduzione dei consumi di gas naturale. Un'ora in meno di riscaldamento e si accendono otto giorni più tardi. Il periodo di accensione degli impianti, spiega il mite, è ridotto di un'ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato in totale di 15 giorni in meno di riscaldamento, quindi posticipato di otto giorni la data di inizio e anticipata di sette giorni la data di fine esercizio. In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali con proprio provvedimento motivato possono autorizzare l'accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati dal decreto, purché per una durata giornaliera ridotta. Inoltre i valori di temperatura dell'aria sono ridotti di un grado. Vediamo il calendario delle accensioni. Si ridisegna così la cartina di accensione dei riscaldamenti. Parliamo di zona A. Ore 5 giornaliere, 5 ore al giorno di riscaldamento dall'8 dicembre al 7 di marzo, mentre nella zona B abbiamo 7 ore al giorno di riscaldamento dall'8 dicembre fino al 23 di marzo. Nella zona C sono 9 ore al giorno di riscaldamento, dal 22 novembre al 7 di aprile. Nella zona E sono 13 ore al giorno di riscaldamento e va dal 22 di ottobre al 7 di aprile. Nella zona F non c'è nessuna limitazione. La zona F sono quelle zone proprio le più fredde in assoluto e saranno quelle anche in alto. Allora, la zona A, quella con 5 ore al giorno dall'8 dicembre al 7 di marzo, è costituita dal sud Italia, isole comprese. La zona F, quella con nessuna limitazione, è quella dell'arco alpino con città come Belluno, Trento e Cuneo. In mezzo le grandi città, Agrigento, Reggio Calabria, Messina, Trapani nella zona B. Abbiamo poi nella zona D Napoli, Imperia, Cagliari. Nella zona C abbiamo Roma, Oristano, Ancona, Foggia, Firenze. Nella zona D abbiamo queste. Poi nella zona E abbiamo Milano, Torino, Bologna, L'Aquila. Ad esempio Milano, zona E, 13 ore al giorno di riscaldamento dal 22 di ottobre al 7 di aprile. Ci sono previste alcune esenzioni. A fine di agevolare l'applicazione delle nuove disposizioni, Enea pubblicherà un vadegmecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini. Sono previste delle esenzioni, in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne, asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, oltre che agli edifici che sono dotati di ampi e impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili. Naturalmente il gas c'è comunque. Il gas in realtà questo è un razionamento che non è dato dal fatto che il gas manca. Il gas in Italia c'è, le riserve sono piene. Ci sarà comunque una riduzione, questa riduzione qua non serve realmente perché la riduzione questa viene fatta perché in Europa bisogna ridurre di un 7,5% in Italia, dalle altre parti un 15% il consumo, ma il consumo è stato già automaticamente ridotto del 15,9%, quasi il 16% perché? Diminuisce la domanda, non perché ci sia freddo, non ci sia freddo, chissà che cosa perché più un prodotto è caro, la legge della domanda e dell'offerta, ecco, più il prezzo è caro meno viene utilizzato un prodotto. In questo caso sale il prezzo del gas, diminuisce, diminuiscono le quantità utilizzate. Pertanto quella riduzione del 7,5% oggi c'è già una riduzione naturale, già del 16% e le cose potrebbero assolutamente peggiorare, peggiorare nel senso che meno italiani utilizzeranno il gas proprio perché non lo possono pagare. Quindi non un razionamento voluto dallo Stato, ma un razionamento che gli italiani si fanno da soli, proprio perché il gas comincia a diventare un qualcosa di lusso. Grazie per avermi ascoltato, buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e ci vediamo presto, ricordatevi che c'è Tele Italia Seconda Rete e in cucina con Carl. Grazie e arrivederci.